Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come passare a Windows 10 quindi in questo caso disinstall Windows 11 e torni indietro a Windows 10 ovviamente se nel tuo sistema, nel tuo disco c'è una cartella che si chiama Windows.old tu vai nella cartella questo pc nel tuo disco locale e qui sotto Windows dovresti trovare la cartella Windows.old perché se hai questa cartella possiamo fare questo procedimento quindi vai su tasto start di Windows con il tasto destro sopra vai su sistema andiamo su sistema, ci clicchi due volte su sistema scendi fino a giù fino a trovare il ripristino quindi reimposta, avvio avanzato, torna indietro e se hai quella cartella Windows.old tu clicca su indietro e passi direttamente a Windows 10 leggendo tutto il procedimento, tutto quello che ti chiede di fare se in questo caso non hai questa cartella Windows.old che ti permetterà di passare a Windows 10 c'è direttamente un altro metodo, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato una pagina che ti porterà sulla pagina di download Windows 10 eccola qua scarichi il tuo strumento e passo passo tu avvii questo strumento facendo doppio clic sopra ti uscirà così il media creation tool poi potresti anche scaricare e installare questo file ISO sulla tua chiavetta USB una volta scaricato e installato 8 GB di file ISO sulla tua chiavetta tu basta che riavvii il tuo sistema con la chiavetta inserita nel tuo PC quindi in questo caso tu cominci a scaricare e installare così il file ISO sulla tua chiavetta scarichi così Windows 10 perché poi è comodissimo avere il file ISO di Windows 10 su una chiavetta così facendo puoi anche installare Windows 10 su altri computer quindi tu spegni il PC metti la chiavetta nel tuo PC accendi il tuo PC e passo passo poi uscirà una schedina dove potrai fare dei passaggi per installare il tuo sistema operativo quindi andiamo a scaricare così lo strumento media creation tool farà così delle operazioni per vedere se supporta così il mio PC il mio sistema e tutte le sue configurazioni, componenti e altro accettiamo così il contratto tutte le informazioni qua puoi anche non fare quel procedimento di inserire file ISO sulla chiavetta puoi direttamente aggiorna questo PC adesso quindi sta a te a decidere o scarichi un file ISO sulla chiavetta USB di 8 GB scarichi installi, la inserisci nel tuo PC e avvi il tuo sistema e piano piano poi ti installerà Windows 10 poi dipende dal tuo disco se hai un hard disk ci metterà più di un'ora se hai un SSD una mezz'oretta se hai un M2 la schedina piccolina che va inserita nella scheda madre un buon M2 SSD che è velocissimo e lo scarichi e lo installi in meno di mezz'ora ed eccolo qua scegliere l'operazione da effettuare aggiorna il PC ora quindi comincerà a scaricare Windows 10 e lo installerà su questo sistema puoi anche decidere se mantenere i tuoi file oppure eliminare tutto e rifare da capo con il tuo nuovo sistema operativo Windows 10 oppure creare supporto di installazione perché come ho detto è comodissimo avere Windows 10 come file ISO sulla tua chiavetta e potrai installare Windows 10 anche su altri portatili e fare anche un favore ad un amico quindi ricapitolando se hai quella cartella Windows.old potrai direttamente tornare indietro farà così un riavvio del sistema ci metterà un bel po' e poi quando si accende il PC hai Windows 10 se non hai Windows.old dovrai fare tutto questo procedimento quindi il link lo troverai in descrizione come scaricare lo strumento e cominciare ad installare il tuo Windows 10 se questo video ti è stato utilissimo se hai problemi commenta lascia like se ti è stato utilissimo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao